E' stata dissequestrata l'area della caserma Andolfato di Santa Maria Capovetere che durante i disordini in Libia aveva accolto migliaia di profughi. Ma ora l'interrogativo è uno solo. A cosa servirà? Potrebbe tornare ad essere un centro di accoglienza profughi o si pensa ad una destinazione diversa? Ebbene, vero è che in provincia di Caserta sono ancora tanti gli immigrati ospitati negli alberghi, una disposizione emanata l'indomani dei disordini durante la notte tra il 4 e il 5 giugno e che obbligarono il Ministero dell'Interno allo sgombero immediato dell'area. Di quella notte non è ancora nota la cronaca esatta. Troppo contrastanti le versioni sugli scontri della Questura e della rete antirazzista. Fatto sta che il campo fu totalmente devastato, tende distrutte dalle fiamme e arredi livelti ed utilizzati per scavalcare le mura di cinta e fuggire. E poi c'erano feriti, contusi, tra i 90 immigrati che quella notte erano rimasti nel CIE. Su questo scenario, chiusi i battenti su disposizione della Prefettura, la caserma Andolfato fu dichiarata inagibile. Oggi si procederà alla bonifica del teatro degli scontri. Ma cosa è cambiato? La struttura resterà inagibile o verrà resa utilizzabile sempre per identificare ed accogliere gli immigrati? Si pensa ad una soluzione provvisoria o si procederà per indire, come già fatto in passato, una gara d'appalto per la gestione della struttura? A questi e a tanti altri interrogativi, per ora, non vi sono risposte concrete.